Ciao a tutti, oggi sono in compagnia di un vitigno ancora non molto conosciuto, che è il Manzoni Bianco. Questo qui viene fatto in Alto Adige dall'azienda Maso Thaler, siamo a Montagna, in provincia di Bolzano, con dei vigneti che sono intorno ai 350 metri sul livello del mare. Il Manzoni Bianco, questo qui è un 2018, è un vitigno, un incrocio, quindi deriva dall'incrocio del Riesling Renano e il Pino Bianco. Infatti ha dei profumi intensi, allo stesso tempo però è elegante, delicato, non troppo estroverso. Non ne ho assaggiati tanti di Manzoni Bianco, però devo dire che questo qui è un ottimo esemplare, perché è elegante, molto fruttato, una buona sapidità, freschezza grumata e quindi ve ne parlo tra poco. Manzoni Bianco non c'entra naturalmente con il Manzoni dei Promessi, ma è stato ideato nel 1930 dal professor Luigi Manzoni alla scuola di Conegliano. Perché? Perché tra fine ottocento e inizio novecento si svilupparono tantissime malattie della vite e quindi si sono cercati degli ibridi, degli incroci per rendere i vitigni molto più forti e resistenti alle malattie. Il Manzoni Bianco 6.0.13, che è questo qui, perché ne sono stati fatti anche altri, c'è il Manzoni Rosso, il Manzoni Rosa, il Moscato Manzoni, non è l'unico vitigno a essere stato creato dal professore, ne aveva creati altri, ma questo qui sicuramente è quello che più conosciamo. è stato originato nella provincia di Treviso e poi oggi comunque si è espanso e lo troviamo appunto in Trentino, in Alto Adige, anche in certe denominazioni come il Bianco di Breganze, il Bianco Trentino, quindi il Colli di Conegliano Bianco. negli ovaggi lo troviamo e poi lo si trova invece come IGT, IGT, in purezza, per esempio questo qui in Alto Adige. E così riusciamo a capire al meglio se è in purezza, quindi se viene vinificato da solo, riusciamo a capire al meglio le sue caratteristiche. Ha ottime capacità di adattamento ovviamente, predilige però i climi freschi, e una produzione diciamo contenuta, quindi le rese basse che, come per ogni vitigno, dopo dà il meglio di sé. Clima fresco, terreni non troppo compatti, ha un grappolo piccolo, gli acini sferici del colore verde-giallo, ha una buccia abbastanza spessa e ha, poi nel vino ritroviamo questi sentori molto fruttati, cioè io, anche se parlo, li sento proprio di qui, ha tantissima frutta polposa, succosa. E nei vini riscontriamo anche una buona acidità, naturalmente, è un corredo aromatico, elegante, fine, delicato, un buon equilibrio con l'alcolicità, che non è mai troppo elevata, questo qui a 12 gradi e mezzo, per esempio, e io direi di andarlo ad assaggiare. Ha una buona consistenza, un giallo paglierino, tra virgolette, da manuale, però qualche riflesso dorato c'è, qualche riflesso dorato c'è, e ha un corredo aromatico incredibile. Frutta succosa, parlo di pesca, frutta tropicale, ma anche agrumi, un grandissimo comparto aromatico. Qualcosa di frutta secca, leggerissima, e si percepisce già una certa salinità, che quindi immagino di ritrovare al palato. Assaggiamolo. E' una spada, freschissimo, molto agrumato, finale sapido, però ha questo timbro di frutta, che è davvero molto piacevole, che anche lo aiuta ad essere più equilibrato. Un'alcolicità ben integrata, e una spada freschissima, una buona corrispondenza. Un vino sicuramente non troppo strutturato, un vino da bere giovane, però mi piace perché le durezze si bilanciano tra di loro, quindi sapidità e freschezza sono abbastanza equilibrate, e in più c'è questa frutta che riesce ad armonizzare il tutto. Come abbinamenti, secondo me è un vino molto versatile, perché si passa dal pesce, sia con gli antipasti che con i primi, e anche con dei secondi, magari non troppo strutturati. Penso a una coda di rospo al vino bianco, per esempio. Ho anche degli spiedini di pesce, penso dei calamari e gamberoni, giusto passati un po' o in padella o sulla griglia, perché comunque sta molto bene con la tendenza dolce. Penso alle torte salate con la verdura, il solito strudel, spinacce ricotta, abbondate di formaggio, mi raccomando, perché sennò andrebbe magari a esaltare un po' troppo la parte amarognola degli spinaci. Lo vedrei molto bene in questo periodo con, per esempio, una vellutata di zucca, perché ha una buonissima cita, quindi una vellutata zucca e patate, porre e patate, o qualcosa di delicato da arricchire con dei crostini, potrebbe essere perfetto. Anche dei risotti delicati, quindi mi fermerei di più antipasti e primi, però possiamo veramente sbizzardirci tra carne, pesce e verdure. L'azienda Masotaler, come ho detto prima, ha sede a Montagna, ovviamente hanno anche altri vitigni, ho avuto il piacere di assaggiare il Sauvignon, lo Chardonnay, il Gewutstraminer, fanno anche dell'ottimo pino nero, davvero incredibile, hanno solo tre ettari e mezzo di vigneto, ed è un'azienda molto giovane, a conduzione familiare, fondata nel 2004. Winnie piccola, cura molto nel dettaglio, per esempio la vendemmia di questo manzoni bianco viene fatta manualmente, dopodiché la maturazione avviene in acciaio, a temperature molto basse, per mantenere tutte le note varietali, comunque, del vitigno, per preservare le caratteristiche, quindi c'è molta cura nel dettaglio, che poi si vede anche nel calice. Io vi ringrazio per oggi, è stato un piacere, e ci vediamo la prossima settimana. Tchim tchim, alla prossima!